Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio rivelarti il significato dell'Idiom of the Week che ho selezionato per te questa settimana. The idiom of today is to take the cake or take the biscuit or take bun. To take the cake, biscuit or bun means to be excessive. L'espressione idiomatica to take the cake, biscuit or bun vuol dire quindi essere esagerati. Proviamo a fare una frase di esempio. Jack's idea to build his own observatory really takes the cake. L'idea di Jack di crearsi il proprio osservatorio personale veramente è un'idea esagerata. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima settimana con un nuovo Idiom of the Week. E nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi questa espressione idiomatica possa essere di interesse. A presto!